Si rientra dal Ferragosto lanciati gambe in spalla per una campagna elettorale che non smette di regalare mostruosità. Eccoci al nostro quotidiano bestiario elettorale. Primo, Bassetti soffre sempre con l'apostrofo, si offende e soffre di nuovo. Vi ricordate che il virologo che voleva essere una rock star Matteo Bassetti, proprio ieri si era lamentato dei giornalisti che a suo dire avrebbero inventato un suo ingresso in politica che lui stesso tra l'altro evocava. Beh, ieri si è superato. Intervistato da ADN Cronos a Salute, Bassetti ha dichiarato «Sono contento di fare il medico e il professore universitario, non mi candido». E quando gli hanno chiesto dell'ipotesi di fare il ministro della Salute ha risposto «Vedremo cosa succederà dopo il 25 settembre e chi sarà il premier». Ecco il problema. Bassetti semplicemente non vuole fare la campagna elettorale, altrimenti si sguercisce il camice. Poi Lotti di Renzismo, Luca Lotti, uno di quelli che aveva l'enorme qualità politica di essere amico del capo ai tempi di Matteo Renzi, se la prende con il Partito Democratico per la sua mancata candidatura, facendoci sapere di avere sempre tenuto, dice, unito e compatto il suo partito e di avere saputo della sua esclusione, dice, dal suo segretario. «Ma scusate, ma Lotti, ma non si era mica autosospeso dal partito? Ma è possibile che i renziani e gli ex renziani non riescano a ricordarsi una bugia che hanno detto loro nemmeno per qualche ora?» E poi conclude dicendo «Il PD è casa mia, lo sarà anche in futuro». Che, scritto così, sembra una minaccia. Poi, qualcuno svegli Berlusconi. Silvio Berlusconi rilascia un'intervista a Politico.eu e dichiara «Il rischio di estensionismo è molto alto. Questa è una delle ragioni per le quali avremmo preferito che il governo Draghi potesse continuare fino alla fine naturale della legislatura e si andasse a votare nella primavera del 2023. Non è stato possibile per il comportamento responsabile dei 5 Stelle e per le manovre ambigue del Partito Democratico. Insomma, per Berlusconi, PD e Movimento 5 Stelle hanno fatto cadere Draghi. Mica Forza Italia e la Lega che non hanno votato la fiducia. Qualcuno lo svegli, per favore. Fatelo tornare qui nel 2022, altrimenti fra poco lo ritroveranno mentre cerca Vittorio Mangano nelle sue stalle. Poi, tengo famiglia. Ti sei indignati, giustamente, per la candidatura alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle e in effetti non è un bello spettacolo, del compagno, delle fratelli e delle sorelle di Bufagni, Trenta e altri. A nord del vero, però, loro dovranno sottoporsi ai voti degli iscritti. Ti sei lamentati anche per la probabile candidatura di Elisabetta Piccolotti, compagna di Nicola Frattoianni, dimenticandosi che Piccolotti però è stata tra i fondatori di Sinistra Italiana. Sodono, stranamente, pochi lamenti per la candidatura blindata. E quindi, per l'elezione sicura, del figlio del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, messo in una posizione sicura all'interno di una lista bloccata. Stavolta niente lanciafiamme, vero? Poi, giornalisti, giornalisti. Sul fronte Lega, tra le candidature, spuntano i nomi di Maria Giovanna Maglie, Oara Borselli e Annalisa Chirico. Non l'avremmo mai detto, vero? Sono candidature di una certa levatura. Esperienza politica? Twitter. Le parlamentarie nel partito di Salvini funzionano con i cuoricini sotto i post. E infine, i terzi populisti. Uno scambio meraviglioso, catturato su Twitter di due elettori di Renzi e Calenda, il polo della serietà, come dicono loro. Allora, il primo scrive La superiorità del programma del terzo polo rispetto a quello della destra-sinistra populista è imbarazzante. Gli risponde una certa Simonella, che dice Dove si può leggere? Mi risulta che lo presentino giovedì. E lui Hanno fatto un po' di schede, io ho letto quella sul PNRR e nucleare. Cioè, stanno parlando di una presentazione PowerPoint, stile tesina delle scuole medie. Sono dei fenomeni. Davvero.